con la sessione che ci porterà fino alla conclusione della giornata di oggi come lavori perché poi ci sarà questa sera, incomincio a ricordarvelo, un Creative Commons Party quindi la giornata non si conclude alle 18 con la fine della conferenza però questa seconda parte della conferenza è dedicata al tema di Creative Commons cerchiamo di fare come ormai è tradizione, mi pare fino dal 2005 se non ricordo male un po' il punto della situazione relativa al progetto Creative Commons in Italia non vi dico troppo sulle licenze Creative Commons perché penso che il 90% di voi in realtà conosca già bene questo progetto giusto in due parole le licenze Creative Commons sono uno strumento giuridico una licenza di diritto d'autore standardizzato che viene messo a disposizione dei creatori autori nell'ambito letterario, musicisti, poeti, disegnatori, fotografi chiunque possa creare qualcosa col suo ingegno, con la sua creatività che dia origine a un diritto d'autore può utilizzare queste licenze per dire in maniera facile senza dover essere un esperto di diritto e senza dover pagare un avvocato per esprimere questa cosa chiaramente quali sono i diritti che vuole mantenere riservati per sé e quali sono le utilizzazioni che vuole concedere liberamente a tutti gli altri per cui il modello di Creative Commons è spesso chiamato un modello con alcuni diritti riservati contrapposto al modello tutti i diritti riservati che è lo standard per il copyright nel momento in cui io non dico nulla automaticamente creo qualcosa e ho tutti i diritti riservati a me le licenze Creative Commons un po' prendendo ispirazione dalle licenze dell'ambito software dalle licenze per il software libero open source hanno varie versioni in Italia in questo momento l'ultima versione disponibile è la versione 2.5 ormai da tempo, un po' troppo tempo, non diciamo quanto, stiamo lavorando all'adattamento al sistema italiano delle licenze 3.0 queste nuove licenze cercano di prendere in considerazione dei problemi che nella versione 2.5 non venivano ancora considerati e cercano di chiarire altre questioni a beneficio naturalmente sia degli autori che dei potenziali riutilizzatori siccome questo processo di adattamento è stato particolarmente complesso abbiamo pensato di farci spiegare oggi da Massimo Travostino quali sono stati i punti più complessi le clausole più difficili da tenere in considerazione e da affrontare in questo lavoro di adattamento per cui lascio la parola all'Avvocato Massimo Travostino Bene, ti ringrazio Federico, grazie a tutti un saluto anche a tutti voi da parte mia io ho il compito di condividere con voi quelle che sono le modifiche, gli interventi più rilevanti che sono stati apportati alla nuova versione delle licenze 3.0 nell'opera di adattamento alla nostra legislazione e così soffermarmi sugli aspetti che sono risultati più controversi e che hanno dato adito a maggiori discussioni ovviamente Federico ha introdotto brevemente di che cosa stiamo parlando, le licenze, la natura, l'oggetto quindi diamo per scontato che conosciamo tutti che cosa sono queste licenze e quali finalità perseguono e proviamo a passare direttamente agli interventi che sono stati apportati su questa versione 3.0 che dovrebbe essere in corso di uscita ormai condivisa e approvata si può dire anche se non abbiamo ancora l'imprimatur formale ma dal punto di vista sostanziale c'è stato un via libera dalla Diane Peters che è responsabile a livello europeo di Creative Commons ecco ci vuole prima di tutto bisogna fare un attimo una contestualizzazione del lavoro che è stato fatto perché in realtà stiamo parlando di un'attività di armonizzazione alla 3.0 che in Italia abbiamo iniziato stavo facendo mente locale proprio per provare a preparare questo intervento nel 2007 mi sono sorpreso quando ho visto che sono ormai più di tre anni che abbiamo iniziato questa attività originalmente addirittura con Andrea Glorioso che ai tempi lavorava qua presso l'Università Politecnico di Torino che adesso è stimato funzionario della Commissione Europea avevamo iniziato con lui l'opera di adattamento delle licenze ci sono state due diverse consultazioni pubbliche un dibattito molto ampio molto articolato sia in lista di Creative Commons sia all'interno del gruppo di lavoro sia con i responsabili europei e internazionali di Creative Commons ovviamente questa faticosa e lunga opera di adattamento e di modifica delle licenze dipende in primo luogo dal fatto che il gruppo di lavoro si riunisce a intervalli diciamo non periodici e non prevedibili dai componenti perché come sapete siamo tutti impegnati in altre attività professionali e quindi questa attività a carattere volontario viene fatta proprio nella misura in cui riusciamo a ritagliare ognuno di noi e contemporaneamente dei momenti di confronto e poi peraltro abbiamo anche dei vali di alibi a cui aggrapparci perché in realtà le modifiche sono state rilasciate e discusse anche in tempi successivi gli aspetti per esempio più rilevanti sulla gestione delle banche dati e database sono emersi diciamo nella loro completa portata e nella loro condivisione complessiva soltanto nel corso del 2009 quindi in realtà abbiamo approfittato anche di questo lungo e lento faticoso adattamento delle licenze per inserire queste queste novità che nel frattempo sono emerse ecco proviamo un pochino a riassumere gli interventi nella loro così singolarità sono abbastanza numerosi però molti di essi si riducono a interventi diciamo quasi cosmetici nel senso di modifiche e traduzioni che sono adattamenti e abbellimenti e maggiori chiarificazioni della licenza quelli che dal punto di vista invece sostanziale sono più significativi e su cui appunto vorrei condividere con voi qualche riflessione che chiederei però fosse eventualmente anche integrata da tutti quelli che hanno partecipato come al gruppo di lavoro ovviamente il professor Ricolfi qui di fianco e Federico che sono qua sul palco ma anche alcuni di voi che sono in platea che hanno partecipato vedo Marco Ciurcina Juan Carlos che ha sempre seguito molto da vicino il professor De Marti in tutta l'attività e quindi mi dimenticherò probabilmente perché in quest'opera di Nicola Bottero che non intravedo ma ovviamente ha partecipato anche lui e quindi sicuramente trascurrò qualcosa però proviamo a concentrarsi sugli aspetti più più importanti ritengo che siano emersi in questi in questo periodo di lavoro allora anzitutto le modifiche hanno avuto come obiettivo una gestione un po' più raffinata oserei dire dei diritti morali quindi alcune precisazioni nelle definizioni della licenza il concetto di licenziante autore delle licenze che possono essere ovviamente anche una pluralità di soggetti che hanno creato l'opera nel caso di opere in comunione ad esempio o che licenziano l'opera nel caso in cui ci siano a contitolarità dei diritti sull'opera che è oggetto la licenza nell'opera derivata si sono inserite delle delle precisazioni che obbligano il licenziatario a indicare chiaramente il fatto che sono state che siano state appunto apportate delle modifiche all'opera e a chi debbano essere attribuite queste modifiche quindi sono modifiche che interessano le licenze che consentono la realizzazione di opere derivate partendo dall'opera che viene originariamente licenziata e che sulla base delle quali appunto chi crea chi realizza un'opera derivata è tenuto a identificare chiaramente quale sia il frutto della sua attività e quale sia invece l'opera originaria che deve essere attribuita all'autore originario così anche tutta la fase diciamo così dell'endorsement cioè il fatto che non debba essere presunto nemmeno in maniera implicita un collegamento una valla una sponsorizzazione da parte dell'autore originario rispetto alle opere derivate eventualmente realizzate è stata direi completata inchiarita in maniera significativa e questo è stato recepito ovviamente senza difficoltà da parte del gruppo di lavoro gli adattamenti si sono diciamo realizzati in maniera molto molto piana e rapida condivisi dalla lista di distribuzione nella quale sono state distribuite le licenze e anzi anche con un certo orgoglio perché in realtà l'Italia è stata uno dei primi paesi che ha evidenziato i diciamo i limiti che aveva la prima versione originaria delle licenze che consentiva quella realizzata negli Stati Uniti che consentiva addirittura una rinuncia alla paternità sull'opera cosa che ovviamente nella nostra giurisdizione così come in molte altre non è possibile e cosa che ha condotto diciamo il gruppo di lavoro che aveva iniziato l'attività nel 2004 aderli soltanto poi alla versione 2.0 della licenza che prevedeva l'attribuzione e il diritto di paternità come una caratteristica essenziale e irrinunciabile della licenza ecco adesso stiamo vedendo che in realtà la gestione di questa caratteristica dell'attribution dell'attribuzione del riconoscimento di paternità sulla licenza viene sempre più raffinata anche nella versione un port della cosiddetta quindi nella versione generica della licenza e questo chiaramente ci fa sicuramente molto piacere perché è stato riconosciuto come un elemento importante di questa licenza d'altra parte uno degli obiettivi più importanti che persegue chi utilizza la licenza creative commos è anche quello di vedersi riconosciuto come autore dell'opera farla circolare e vedersi riconosciuto come autore quindi la caratteristica dell'attribuzione è una corretta gestione efficace gestione dell'attribuzione è sicuramente uno degli aspetti importanti delle licenze creative commos secondo aspetto che è stato introdotto e anche questo è stato gestito in maniera abbastanza agevole dall'attività del gruppo di lavoro è stato quello di prevedere la compatibilità delle licenze creative commos non soltanto con le licenze creative commos dello stesso tenore ma anche con licenze compatibili cioè licenze che non siano creative commos ma che creative commos abbia riconosciuto come essenzialmente equivalenti alla licenza creative commos originaria voi sapete qui forse va fatta una una precisazione sui meccanismi della licenza voi sapete che una delle condizioni essenziali che vengono imposte al licenziatario che acquisisce il diritto di utilizzare l'opera e di concedere l'opera nel caso in cui l'esercizio delle facoltà comporti una distribuzione da parte del licenziatario alle stesse condizioni con le quali lui l'ha ricevuta in maniera tale ovviamente che ci sia la possibilità di far beneficiare anche tutti coloro che vengono a contatto con l'opera in virtù di un'attività di distribuzione da parte del licenziatario dei medesimi effetti della licenza originaria medesimi effetti ovviamente che implicano la concessione di una licenza sempre da parte del licenziante al terzo che riceve l'opera quindi non si tratterà mai di una sublicenza ma sempre di una licenza un modello stellare come si dice in una catena bene fino alla versione precedente la 2.5 l'unico modo per rispettare questa clausola nella distribuzione della licenza era di concedere l'opera con la stessa licenza creative commonson cui l'autore originario l'aveva ricevuta dalla 3.0 c'è invece la possibilità di concedere a cascata le opere e di distribuirle utilizzando delle licenze analoghe cioè che rispettino gli stessi termini dal punto di vista appunto degli aspetti essenziali della licenza creative commonson cui è stata ricevuta l'opera in questo modo ad esempio il primo effetto pratico è stato che Wikipedia ha potuto passare all'uso della licenza creative commonson prima utilizzava un'altra licenza libera essendo compatibile adesso la licenza creative commonson con altre licenze libere che vengono riconosciute compatibili la creative commonson stessa Wikipedia ha potuto passare alla gestione dei propri contenuti attraverso la licenza creative commonson quindi anche questo è stata una modifica direi che salutata con favore da parte di tutti noi una precisazione che da sottolineare ulteriore che secondo me è significativa giusto per ricordare anche delle caratteristiche essenziali della licenza il fatto che è stato inserito tra le facoltà che vengono concesse dal licenziante al licenziatario anche la possibilità del diritto di noleggiare e o prestare concedere in prestito l'opera ovviamente se parliamo di licenze non commerciali ci sarà soltanto la facoltà di concedere in prestito perché è significativa a parte appunto un mero completamento delle facoltà che concede il titolare dei diritti sull'opera è significativa perché ci ricorda che la licenza creative commons non è una licenza che debba essere necessariamente abbinata a distribuzioni a titolo gratuito dell'opera importante che la licenza sia concessa senza condizioni ulteriori ma può benissimo essere abbinata a una distribuzione che avviene a titolo oneroso eventualmente anche una concessione in noleggio di supporti materiali che contengono l'opera e che contengano però anche i termini di una licenza che consente la distribuzione e poi le medesime condizioni con cui l'opera è stata ricevuta ecco sulla stessa falsariga un quarto ambito di intervento significativo che è stato oggetto delle modifiche della versione 3.0 riguarda la nozione di opera una precisazione del concetto di opera e dell'inclusione nella nozione di opera bisogna arrivare al dunque una dicione di minuti una nozione del concetto di opera che include esplicitamente ora nella versione attuale direi che stiamo avvicinando al dunque dei diritti connessi e dei diritti sulle banche dati cioè viene esplicitamente detto che i diritti che vengono concessi i diritti che possono essere oggetto di concessione attraverso la licenza sull'opera sono anche i diritti connessi al diritto d'autore quindi non soltanto i diritti d'autore e i diritti sulle banche dati per quanto riguarda i diritti connessi noi non avevamo avuto mai alcun dubbio in realtà si tratta semplicemente di una precisazione c'era un po' di discussione appunto se le licenze creative commons potessero anche avere d'oggetto non soltanto diritti d'autore in senso proprio e pieno ma anche diritti connessi al diritto d'autore è ovvio che questo dipende molto dall'uso che la licenza si fa e quindi della precisazione di che cosa si intenda per opera di che cosa viene licenziato concessione di licenza creative commons un conto è concedere uno spartito musicale un conto è concedere con la licenza creative commons l'esecuzione di questo di questo spartito l'esecuzione che viene fatta sulla quale ovviamente insisteranno non soltanto i diritti d'autore sull'opera ma anche i diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori e riproduttori di fonogrammi ovviamente perché chi effettua la fissazione del fonogramma il rispettivo diritto connesso del produttore ecco questo ora è finalmente precisato e quindi consente anche l'utilizzo esplicitamente delle licenze ad esempio per la diffusione di esecuzioni di opere cadute in pubblico dominio perché io potrei diffondere con la licenza creative commons un'esecuzione orchestrale di una sinfonia di Beethoven che sicuramente in pubblico dominio ma i cui diritti connessi del produttore e degli artisti intrapiti esecutori non lo sono e sono tutelati in questo modo non c'è alcun dubbio più complessa e discusse invece è la questione relativa ai diritti connessi cioè il fatto che appunto l'oggetto della licenza scusate delle banche dati i diritti sulle banche dati riguardi anche i diritti sulle banche dati non tanto per la precisazione che è stata inserita nell'introduzione alla licenza e nella nella definizione di opera perché quella precisazione ha ad oggetto il diritto d'autore proprio sulle banche dati cioè il diritto che compede a chi sceglie organizza una banca dati attraverso criteri di elaborazione e scelta originali del materiale e che quindi è titolare ai sensi dell'articolo 2 all'articolo 64 5 della legge sul diritto d'autore di un diritto d'autore vero e proprio pieno sulla banca dati quello che invece ha dato adito e su questo appunto non ci sono dubbi sul fatto che la licenza crediticomus possa avere ad oggetto anche questo tipo di diritto quello invece che è stato oggetto di lunghe discussioni è stata la precisazione che sorta poi in realtà in tempi più recenti con riferimento al diritto sui generi sulle banche dati cioè quel diritto che è stabilito dalla direttiva 996 dell'Unione Europea e ricepito nel nostro ordinamento dell'articolo 102 bis della legge sul diritto d'autore in base al quale al costitutore di una banca dati cioè il soggetto che impiega risorse energie tempo e attività economica per la raccolta e l'organizzazione di dati spetta un diritto esclusivo di estrazione e riempiego della totalità o della parte sostanziale di questa banca dati per appunto 15 anni dalla costituzione o pubblicazione della medesima si tratta di un diritto questo che è peculiare all'interno dell'Unione Europea che è stato identificato e riconosciuto per consentire anche una tutela dell'impiego delle risorse economiche da parte di soggetti che realizzano banche dati a prescindere da qualsiasi apporto originale o creativo sulla cui natura e meritevolezza di tutela ovviamente io qui non intendo dilungarmi né prendere posizione però un dato è certo è un diritto caratteristico dell'Unione Europea e del nostro ordinamento che non trova equivalenti in altri ordinamenti come ad esempio quello statunitense allora la preoccupazione dei responsabili di Creative Commons era che questo diritto sui generis potesse in qualche modo essere solitizialmente diciamo esportato in altre giurisdizioni attraverso l'uso di una licenza Creative Commons che avesse l'oggetto dei database tutelati da questi diritti sui generis nell'ambito di un ordinamento in cui è riconosciuta la protezione di questo diritto e allora è stato diciamo concordato in sede diciamo a livello europeo e su questo in realtà noi non abbiamo preso parte a questa decisione l'abbiamo un po' come dire recepita e abbiamo preso atto di questa decisione nel fatto che la licenza dovesse contenere da parte del licenziante una rinuncia su cui poi adesso cercherò di precisare la portata di questa rinuncia all'esercizio dei diritti sui generi sulle banche e dati eventualmente esistenti sull'opera concessa in licenza cosa significa? Significa che chi ha concepito questa modifica di licenza ha ritenuto opportuno che precisare che nel caso in cui l'opera includesse anche o fosse costituita anche da una banca dati oggetto di un diritto sui generi il titolare di questa banca dati rinunciasse ad esercitare le prerogative riconosciute dalla licenza quindi ad esempio attribuzione l'utilizzo non commerciale se si tratta di una licenza non commerciale l'impossibilità di effettuare opere derivate se si tratta di una licenza che non consente opere derivate con riferimento a questa banca dati che quindi queste banche dati fossero liberamente utilizzabili c'è stata molta discussione poi tra noi nel gruppo di lavoro e con i responsabili internazionali sulla distinzione tra rinuncia e concessione in licenza rinuncia al diritto che presenta alcuni aspetti problematici e in realtà concessione in licenza secondo termini molto ampi che della banca dati ho gestito sul diritto sui generis dal punto di vista sostanziale è che di fatto nella licenza 3.0 il diritto sui generis scompare viene neutralizzato sulla banca dati quindi chi il soggetto che utilizzerà una licenza Creative Commons 3.0 su opere che contengono banche dati tutelate con il diritto sui generis rinuncerà al proprio diritto sui generis su queste banche dati e rinuncerà in termini e a condizioni più ampie rispetto a quelle con le quali e alle quali viene concessa in licenza l'opera oggetto della licenza Creative Commons appunto si tratta di una ecco modifica di una precisazione la cui portata in realtà e questa forse era la critica principale che abbiamo fatto non è immediatamente e facilmente comprensibile a chi utilizza le licenze e soprattutto in un'ottica di utilizzo semplice immediato rapido e su situazioni standard delle licenze da parte di non addetti ai lavori e da parte di non giuristi introduce una complicazione piuttosto difficile da apprezzare e da comprendere già in prima battuta da chi si occupa professionalmente di queste cose figuriamoci anche da quelli che sono gli utilizzatori più comuni di queste licenze allora la cautela che noi abbiamo inteso raccomandare a livello internazionale che sicuramente adotteremo nella versione italiana è quella di accompagnare questa nuova versione della licenza e questa rinuncia al diritto sui generis con una spiegazione dettagliata di che cosa si sta facendo quindi chi utilizzerà le licenze però per il 3.0 che contengono database ecco dovrà capire bene che cosa sta facendo del suo diritto sui generis su questo su questo database questo apre tutta una serie di considerazioni e scenari di cui abbiamo discusso e stavamo discutendo ancora poco fa cioè ad esempio il fatto la possibilità che a nostro avviso rimane comunque salva di continuare a utilizzare le versioni precedenti delle licenze creative commons la 3.0 non è ancora uscita uscirà tra breve versione italiana ovviamente quella in porte è già uscita da tempo si potrà se ci sono dei dubbi o delle perplessità su questa clausola sui generis utilizzare la 2.5 che è attualmente in uso che non pregiudica questo diritto esclusivo e che appunto non crea problemi da questo punto di vista il merito ecco che diciamo ha avuto sicuramente questo dibattito su questa precisazione della licenza è quello di avere portato la luce un aspetto che in realtà era emerso da tempo nelle nostre discussioni nel gruppo di lavoro cioè che ci sono delle situazioni in cui l'utilizzo della licenza credit commons va fatto con cautela e quindi soprattutto va accompagnato questo è sempre più evidente con delle precise indicazioni da parte del licenziante di che cosa si intende licenziare con licenza credit commons facciamo un esempio parliamo di un'opera collettiva quale può essere ad esempio un quotidiano ecco se io intendo concedere una licenza credit commons sulla raccolta dei quotidiani di un certo periodo che vanno nell'arco di 50 anni devo essere molto chiaro non è sufficiente apporre il simbolo il metadato sul sito o sulla pagina dove c'è questo archivio e dire che l'archivio è concesso con licenza credit commons bisogna essere molto precisi e dire nel dettaglio se intendo concedere il singolo articolo se intendo concedere il numero del quotidiano sentendo concedere la banca dati che costituisce il complesso delle opere collettive che io raccolgo perché altrimenti in caso di incertezza e ambiguità sul che cosa deve essere considerato oggetto della licenza ecco si possono correre dei rischi dei grossi rischi quindi questo direi che è un dato uno spunto che ritengo importante cioè il fatto di cercare di diffondere un utilizzo sempre più consapevole accorto e preciso delle licenze soprattutto quando ci troviamo di fronte ad opere complesse che sono il frutto dell'attività di molteplici autori ecco ovviamente poi se ci sono domande o spunti o contributi possiamo approfondire il tempo effettivamente l'ho già consumato però volevo ancora segnalare un ultimo aspetto significativo degli interventi che sono stati apportati in realtà non è un intervento che abbiamo apportato noi ma è una imposizione che ci è stata di fatto gentilmente richiesta dal board internazionale che è quella di eliminare una clausola che noi avevamo inserito nella previa versione della licenza che ci piaceva molto che ritenevamo gestire in maniera efficiente i problemi di legge applicabile alle licenze che era la clausola 8F cosiddetta i commons era la clausola sulla base della quale diciamo in base al principio di territorialità che regola l'applicazione della legge sul diritto ruotore voi sapete che i diritti sui beni materiali sono regolati dalla legge del paese di utilizzazione di questi diritti è una regola del nostro diritto internazionale privato che discende dalle convenzioni internazionali ecco noi coerentemente per garantire un utilizzo della licenza un'applicazione della licenza che fosse coerente con la legge applicabile alle fattispecie che erano regolate questa licenza avevamo ideato questa clausola 8F sulla base della quale si diceva che la versione della licenza applicabile tra le parti era quella italiana nel caso che l'utilizzazione dell'opera venisse sul territorio italiano quella invece un port o cosiddetta generica nel caso in cui l'utilizzazione della licenza venisse altrove in maniera tale che potesse essere più compatibile quella un port rispetto a quella italiana ad esempio se l'uso dell'opera veniva negli Stati Uniti era sicuramente più compatibile a disciplinare i rapporti tra i parti la versione un port rispetto a quella italiana realizzando in questo modo una sorta di dual licensing da parte del licenziante ecco questo dual licensing o non era stato forse ricepito fino in fondo dagli originari nostri corrispondenti internazionali nella prima versione della licenza ma il fatto sta che è stato a questo punto ben discusso e ci siamo confrontati con Diane Peters ultimamente e ci è stato come dire richiesto di eliminare questa clausola perché appunto era incompatibile con anche la gestione pratica delle licenze perché le licenze sono tutte contenute su un unico server questo dual licensing avrebbe comportato delle difficoltà nella gestione delle varie versioni e licenze una difficoltà anche comprensibile dal punto di vista giuridico sull'identificazione del testo contrattuale su cui si formava il consenso prestato dalle parti da licenzianti e da licenziatario e quindi insomma benché a nostro avviso rimanessero validissime le ragioni per le quali avevamo concepito questa originale clausola e ci è stato chiesto di eliminarla e quindi la versione 3.0 non porterà più la clausola 8F che era stato un po' il marchio uno dei tratti caratteristici della versione italiana e la prima versione italiana della licenza Creative Commons ho esaurito direi che per il momento mi fermeri qua grazie Massimo grazie a voi ringrazio l'avvocato Massimo Travostino del gruppo di lavoro di Creative Commons Italia siamo già un pochettino in ritardo ma volevo innanzitutto chiedere se c'erano una massimo due domande di chiarificazione su punti specifici perché questo intervento chiaramente era un po' tecnico quindi immagino possono esserci richieste di questo tipo vedo che una c'è sicuramente nel metadato buongiorno volevo chiedere in particolare sul metadato volevo capire se è una cosa virtuale di internet o se si può anche associare più fisicamente a un'opera ok allora rispondo direttamente io sì l'utilità primaria di questi metadati che vengono forniti da Creative Commons riguarda sicuramente l'utilizzo in forma digitale e ovviamente in particolare quello sul web cioè quando uno sceglie una licenza Creative Commons col softwareino che c'è sul sito di Creative Commons risponde a alcune domande viene fuori la licenza prescelta il simbolino eccetera e anche uno snippet quindi un pezzettino di codice che uno può inserire nella propria pagina questo codice rispetta alcuni standard di base del web semantico di quello che è il web 3.0 di cui ci aspettiamo di vedere da adesso in poi le prime conseguenze tangibili e quindi l'utilità primaria di questo metadato è dire non solo in una pagina ho il link alla licenza Creative Commons ma avere un codice che istruisce un sistema che vada a leggere questa pagina un computer che vada a leggere questa pagina per capire che la licenza lì non significa un riferimento generale al Creative Commons ma il fatto che sto dando in licenza una certa opera identificata da un link con una certa licenza identificata da un link quindi si dà un significato alla menzione della licenza in una pagina comprensibile ad un computer in particolare un motore di ricerca la prima utilizzazione diciamo pratica ma possono esserci altri interessanti che abbiamo sfruttato anche in alcuni progetti di ricerca del centro ecco scusami corrigimi se sbaglio però questo è un metadato che si inserisce in un file che può essere anche fatto circolare su supporti che prescindono dal web nel senso che posso inserirlo su un cd e poi distribuirlo col metadato nel cd assolutamente che forse era quello che si 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 quindi il metadato ovviamente ha senso solo in ambito digitale e sicuramente può essere sfruttato appieno solo se c'è un'accessibilità automatizzata quindi se non c'è un sistema che in automatico può andare ad accedere al metadato il metadato non serve a nulla il cd nella mia libreria oggettivamente può avere il metadato tecnicamente ma nessuno se ne fa nulla è il fatto che un bot tipo quelli di google può arrivare lì e trovarlo che dà valore al metadato per cui certo qualsiasi file può averlo il file su internet è molto più utile se ce l'ha vuol dire che si applica anche all'estero le clausole italiane o il contrario sì vuol dire questo vuol dire che sarà soltanto la versione italiana a regolare i rapporti tra licenziante e licenziatario a prescindere dalla legge che disciplina invece i diritti che vengono che vengono eventualmente utilizzati in un altro paese perché anche in un altro paese si deve applicare si deve applicare la licenza italiana esatto che può sembrare un po' strano però noi l'avevamo fatto presente dicendo ma insomma se poi l'utilizzazione se il pubblico in Italia questo si spiega perché se invece l'utilizzazione avviene in Giappone i giapponesi non capiscono quello che vuol dire l'italiano non conoscono neanche i nostri caratteri che cosa serve però quello che ci è stato risposto abbastanza credibilmente almeno noi l'abbiamo accettato è quello di dire ma non considerate le utilizzazioni fisiche cioè il concerto in una sala da musica piuttosto che l'esecuzione con un pubblico presente o un pubblico assente ma con un'impronta locale considerate la rete e allora sotto questo profilo non è che ci sia una distinzione tra opere destinate prevalentemente al pubblico italiano piuttosto che quello giapponese o americano quindi una volta che ci sono le ragioni per radicare l'Italia e l'ordinamento italiano verrà per tutti coloro che si trovano ad operare con l'ombrello di quella licenza a noi è sembrato non ottimale ma ragionevole stiegato così anche a lei sembra più se posso aggiungere un elemento brevissimamente che lo rende ancora più ragionevole forse Creative Commons a livello internazionale parte un po' dal presupposto che se una creazione nell'idea del suo autore ha una portata di riutilizzo di utilizzo internazionale sia una buona idea per l'autore utilizzare direttamente una licenza internazionale quindi quella unported che adesso si chiamerà per evitare questo strano termine international così è più facile quindi Creative Commons la licenza Creative Commons e invece la giurisdizione italiana allora non capisco come la giurisdizione italiana si possa applicare in Giappone ma appunto perché non semplicemente lei deve tenere conto della distinzione tra la scelta della giurisdizione e la scelta della legge applicabile in Giappone avremmo questa stranezza ma che in teoria è possibile che sia competente il giudice giapponese ma sulla base di una clausola contratuale che gli dice tu giudice giapponese applichi la legge italiana il giudice italiano ogni tanto applica la legge giapponese e ogni tanto lo fa anche bene però tenendo separate le cose di giurisdizione e di legge applicabile si capisce che questo è un po' strano ma direi che la risposta giusta poi alla fine è quella più semplice la data Federico Morando e cioè o abbiamo delle cose che sono veramente locali italiane solo italiane allora ha senso scegliere la versione adattata al diritto italiano oltre che tradotta ma se abbiamo una audience che è internazionale si vada su quello che una volta era l'unport che adesso giustamente si chiama international va in rete non scegliere l'Italia o il Giappone scegliere l'internazionale grazie non voglio scoraggiare troppe domande ma proprio ultimo punto di feedback perché se no rimaniamo troppo in ritardo faccio solo questa domanda vorrei sapere la Creative Commons può essere applicata a un brano musicale ma anche per esempio a un oggetto che io disegno come può essere un tavolo di cristallo per esempio non è vero ma comunque ci provo purtroppo non è predittivo del futuro ma allora il problema fondamentale è che ad oggetto opera dell'ingegno di carattere creativo quindi tutto quanto è protetto da legge sul diritto d'autore un tavolo è un oggetto che dal punto di vista del diritto può presentare delle connotazioni molto complesse perché è vero potrebbe essere tutelata la legge sul diritto d'autore se ha i caratteri di creatività e originalità tali da appunto farlo rientrare nella categoria delle opere dell'ingegno tutelabili ma più probabilmente è un oggetto di design che è tutelato dalla legge appunto sui modelli e sulla quale in realtà le licenze creative commons non operano quindi l'uso delle licenze creative commons per oggetti la cui natura giuridica è controversa deve essere calibrato con molta attenzione soprattutto appunto adesso è una risposta sicuramente parziale insoddisfacente e incompleta ma il concetto fondamentale è che gli oggetti di design anche da un punto di vista giuridico molto spesso appunto suscitano dibattiti che sono tutelabili oggi sotto potenzialmente due diversi profili due diversi punti di vista quindi potrebbe non essere sufficiente utilizzare una licenza creative commons per liberare tutti i diritti che insistono su questa tipologia di oggetti posso fare la risposta pratica può darsi di sì mandate una mail con la foto a Selili effettivamente io ho imparato delle cose più complete che Massimo mi ha spiegato altre volte quindi cerco di utilizzare quello che mi ha detto altre volte per completare un tavolo può essere protetto dal diritto d'autore quando oltre a essere come tutte le altre opere dotate di carattere creativo abbia anche un valore artistico quindi il tavolo di scarpo di Le Corbusier è anche tutelato dal diritto d'autore quello di Marco Ricolfi che nel suo tempo bricolage ne fa uno non è tutelato dal diritto d'autore è tutelato il mio se ha novità e carattere individuale anche come design legge modelli il quale design a sua volta può essere non registrato e vale soltanto per quanto vale due anni e mezzo tre anni in forma non registrata ed è tutelato soltanto contro la vera e propria copiatura cioè limitazione consapevole mentre se io voglio ottenere 25 anni di tutela 5 volte 5 anni devo fare una domanda all'ufficio italiano o agli altri uffici a cui si fa la domanda questo fa sì che in realtà sia molto difficile adottare le licenze creative commons perché o sono di alto livello artistico oppure la tutela soltanto contro la copiatura e questo è un problema perché siccome ci sono molti progetti collaborativi in materia di design per fare collaborare in rete le persone bisogna dire che si ha un quadro di collaborazione ad esempio non commerciale non derivativo piuttosto che tutti i diritti riservati che è troppo il design si adatta poco quindi effettivamente casi difficili poi se Lili cerca di impostarli e se del caso affidarli per soluzione a qualcuno possiamo inviarla come sua domanda alla sessione dopo perché se no maturiamo troppo tempo tanto le sue questioni sono buone sempre benissimo anche perché alla fine dell'intera sessione su Creative Commons abbiamo una fase di discussione che può riguardare tutto quanto è discusso questo pomeriggio concernente Creative Commons a questo punto quindi ringrazierei l'avvocato Massimo Travostino e passerei agli speaker della sessione successiva che sono l'avvocato Deborah De Angelis il dottore Ermanno Pandoli e il professore Marco Ricolpi che si farà un po' portavoce di una parte che oggi non ha potuto partecipare alla nostra discussione perché quello di cui andiamo a discutere ora è il tema dell'interazione tra Creative Commons e la gestione collettiva dei diritti d'autore in particolare nell'ambito musicale come molti di voi sapranno sicuramente tutti quelli che hanno in qualche modo a che fare con la musica sanno bene c'è un ruolo fondamentale delle società di gestione collettiva in particolare la SIAE in Italia è un player centrale nella gestione dei diritti musicali e nella pratica di tutti i giorni se qualcuno ha a che fare col mondo della musica in pratica non può non avere a che fare con SIAE non introduco più di tanto io perché l'avvocato Deborah Di Angelis ci farà anche un po' una storia credo di questi contatti tra Creative Commons e SIAE quindi proprio lo scopo di questa oretta di dibattito è capire quali sono i problemi di questa convivenza difficile tra le licenze libere e la gestione collettiva nell'ambito musicale in particolare quali sono i passi avanti che si sono fatti ultimamente quali sono le difficoltà che ancora ci troviamo ad affrontare anche quelle che non sappiamo bene come affrontare perché i nostri interlocutori sono un po' latitanti di corso grazie Federico io mi scuso per la voce perché anche oggi ho un po' di raffreddore quindi ho il tono un po' basso non è la prima volta che mi trovo qui a Torino a parlare di queste vicende in effetti avrei voluto oggi poter dare degli sviluppi maggiori rispetto a quello che effettivamente poi nella pratica abbiamo avuto il tema ovviamente è sempre quello del rapporto tra le licenze creative commons e la gestione collettiva del diritto d'autore e quelli che sono stati in qualche modo gli esiti del lavoro portato avanti dal gruppo di studio creative commons CIA la premessa si partiva appunto dal ragionare il rapporto di compatibilità incompatibilità del sistema di licenze creative commons con il sistema di gestione collettiva delle opere dell'ingegno così come strutturato in tutte le società di gestione collettiva europee ovviamente noi abbiamo preso in riferimento la nostra società di gestione la CIA e abbiamo analizzato il contratto di mandato che la CIA stessa offre ai propri associati che lo caratterizza dall'esclusività sulla base del quale viene impostato il rapporto di gestione nel mandato per cui la società svolge attività di intermediazione per i propri associati sulla base di un mandato a carattere generale ad assoluto e questa esclusività si esprime su tre livelli quello appunto delle facoltà concesse indicate all'articolo 180 della legge sul diritto d'autore nonché delle opere in quanto il regolamento della società di gestione collettiva richiede ai propri associati di depositare tutte le proprie opere facenti parte del proprio repertorio sia passate che presenti che future e sui territori in quanto la società di gestione collettiva italiana agisce anche all'estero in base a rapporti di reciprocità con le consorelle straniere per cui da questo corollario discende la conclusione che l'autore associato in SIAE non ha la possibilità di autogestire individualmente in un sistema di dual licensing le proprie opere adottando appunto delle licenze creative commons anche solo ed esclusivamente per fini promozionali delle opere stesse la SIAE in qualche modo supportata dalle iniziative della comunità europea iniziata intorno al 2005 ha iniziato ad aprire il proprio rapporto di mandato cercando agli articoli 10 ed 11 del proprio regolamento di dare degli spazi di libertà maggiore ai propri associati per quanto riguarda l'articolo 10 questi appunto riguardano i territori e alcuni diritti per cui oggi un associato SIAE ha la possibilità di limitare il mandato concesso all'ente a certi territori oppure limitarlo a certe tipologie di diritti un caso abbastanza noto è quello della EMI che ha ritirato il repertorio online che appunto in base all'articolo 11 è possibile farlo per le utilizzazioni online quindi autogestirsi per tutto ciò che riguarda la movimentazione delle proprie opere in rete e lasciare invece l'attività di gestione e di intermediazione dell'ente per tutto ciò che concerne l'offline alcuni hanno ritenuto che tali norme potessero costituire una soluzione al nostro problema ma in effetti a ben vedere ragionando sulla tipologia e le caratteristiche e la natura delle licenze creative commons non è possibile avvalersi esclusivamente di questi due articoli in quanto le licenze creative commons come voi sapete rendono possibile la condivisione delle opere non limitando l'ambiente online e offline e quindi questo comunque rappresentava ulteriormente un problema nel 2 dicembre del 2008 si è formalizzata la costituzione del gruppo giuridico misto CCCAE il quale ha lavorato fino al 14 luglio del 2009 l'intento del gruppo era quello appunto di offrire agli autori una maggiore flessibilità nella distribuzione delle proprie opere ricalcando quindi quelle che erano le istanze portando avanti dalle licenze creative commons e dare poi la possibilità agli autori che avessero appunto optato per il rilascio delle proprie opere sotto licenza libera riservandosi però agli usi commerciali di affidare alla CIA la raccolta dei proventi derivanti da queste tipologie di utilizzazioni questo per quanto riguarda gli autori come? Un'unica strada un'unica strada percorribile da parte della CIA era quella di stilare un mandato ex articolo 21 comma 3 del regolamento generale che appunto si intitola mandati individuali e dà la possibilità all'ente di istituire nuove forme di mandato previo il parere favorevole della commissione di sezione competente e con l'accettazione ovviamente della delibera del consiglio di amministrazione le prerogative che avrebbero spinto invece la CIA ad adottare questa nuova forma di mandato erano innanzitutto quelle rivolte ad allargare la propria base associativa perché? Perché il mandato ex articolo 21 comma 3 sarebbe stato offerto a tutti gli autori che appunto rilasciano le proprie opere sotto licenza creative commons non commercial non ancora associati CIA e quindi in questo senso allargare con i nuovi iscritti a questa categoria e inoltre offriva la possibilità di gestire i diritti ancora non amministrati dall'ente sapete che l'articolo 180 ha un'elencazione tassativa per cui il diritto di sincronizzazione il diritto per abbinamento pubblicitario e il diritto di riproduzione di opere grafiche non riempire entra nel mandato CIA e attraverso questa nuova forma di mandato si era anche ipotizzata la possibilità di consensualmente quindi in base a un contratto di licenza di ampliare anche la gamma dei diritti amministrati dall'ente e abbiamo dato anche la possibilità alla CIA di monitorare e conoscere il mondo delle licenze creative commons al quale fino allora rimaneva estranea appunto gli autori hanno la possibilità di usufruire del sistema di giuliettino alla fine di raccogliere i propri proventi e ovviamente quei proventi che attraverso una gestione individuale non avrebbero la possibilità di raccogliere escluso ovviamente i diritti di copia privata noi più volte abbiamo parlato in queste sedi di quali sarebbero stati appunto i diritti oggetto di raccolta da parte dell'ente e alle volte anch'io erroneamente ho dichiarato che i diritti di copia privata potevano essere parte dei compensi raccolti ma se ragioniamo effettivamente sull'intento delle licenze cioè quello di lasciare per usi privati la divulgazione libera delle opere l'autore che sceglie di adottare una licenza creative commons rinuncia alla raccolta dei diritti per copia privata perché comunque non è un'utilizzazione commerciale quella che viene fatta quali sono stati gli argomenti maggiormente discussi all'interno del gruppo li ho indicati in due grosse aree la linea di demarcazione tra ciò che è commerciale e ciò che non è commerciale e l'esclusività del rapporto che la CIA intendeva in qualche modo estendere anche a questa nuova forma di mandato e quindi la possibilità invece di gestire opera per opera le opere del repertorio per quanto riguarda gli usi commerciali siamo partiti innanzitutto dall'esperienza olandese del pilot che era già iniziato anni prima dove la consorella Bumassem aveva adottato un principio secondo il quale seguendo un criterio soggettivo dovremmo andare a individuare come commerciali tutte le attività poste in essere da un ente a scopo di lupro da un'associazione da una società anche perché la definizione offerta dall'articolo 4 lettera Bli delle licenze essendo ovviamente generica per l'uso che se ne deve fare nel caso di licenze appunto aperte a tutti necessitava di chiarimenti di specificazioni quindi è stata proposta la possibilità di utilizzare un cosiddetto criterio soggettivo quindi legato al carattere economico imprenditoriale del soggetto agente quindi dell'utilizzatore con un criterio oggettivo applicato in maniera sussidiaria cioè nel momento in cui l'ente o il soggetto agente non ha un carattere imprenditoriale dovremmo andare a vedere che tipologia di attività svolge nel concreto e soltanto lì appunto determinare se in effetti vi sia una utilizzazione prevalentemente commerciale e come gruppo come rappresentanti di Creative Commons abbiamo consigliato di considerare come non commerciali ad esempio gli utilizzi sui siti di autopromozione degli autori o di aggregazione di promozione che però non richiedano delle condizioni di accesso particolari o comunque vi sia un'assenza di qualsiasi tipologia di pubblicità o di attività similari nel caso di siti aggregatori finalizzati alla promozione collettiva che ospito invece inserzioni o banner pubblicitari ricavandone quindi un incasso abbiamo sostenuto che avrebbero dovuto avere una valutazione diversa quei siti dai quali effettivamente l'introito non superava le spese di gestione in tal modo sono state enucleate una serie di casi cosiddette zone grigie dove abbiamo richiesto una valutazione caso per caso adottando un parametro economico che potesse in qualche modo fare da spartiacque dalle utilizzazioni effettivamente commerciali da quelle cui invece gli incassi andavano soltanto a coprire le spese di gestione si è quindi proposto di individuare un volume economico al di sotto del quale si rientrasse sempre nelle forme di utilizzazioni non commerciali per quanto riguarda il settore dell'online quindi abbiamo delineato delle classificazioni abbiamo detto che i siti i blog i podcast personali non rientrano nelle utilizzazioni commerciali lo sono invece tutte le utilizzazioni che si hanno sui siti come iTunes Amazon Magnatun e Giamendo un caso a parte è stato fatto per il discorso delle web radio che non richiedono anche queste dei particolari condizioni di accesso e in qualche modo riprendano quelle che erano le condizioni di classificazione all'interno della legge delle radio cosiddette comunitarie ovviamente per quanto riguarda il settore dell'offline sono considerate commerciali tutti gli utilizzi che vengono fatti in telefonia mobile tutto ciò che riguarda il mercato discografico quindi le riproduzioni fonomeccaniche dei supporti eccetto le demo ossia quelle copie promozionali distribuite soltanto per pubblicità di un determinato artista di un determinato brano lo stesso discorso dei broadcaster appunto si è fatto per le radio web così si è fatto per l'offline e non sono da considerare commerciali quelle pubbliche esecuzioni gratuite nel corso dei quali non ci siano appunto contributi o sponsorizzazioni il problema si è posto in questi casi se vi fosse la presenza di somministrazione di cibi e bevande ovviamente anche qui per la CIA è sicuramente commerciale un'utilizzazione di questo genere anche qui noi abbiamo cercato di far rientrare il discorso del parametro comunque volumetrico a livello di quantificazione effettivamente degli interi per capire se effettivamente vi era un'utilizzazione commerciale anche in queste ipotesi per il peer-to-peer si è dovuto fare un discorso a parte perché ovviamente il tasto della licenza e cc all'articolo 4 lettera b ci dà una definizione che esclude l'uso commerciale nel caso di condivisione di opere nelle reti peer-to-peer attraverso il procedimento di file sharing questo ovviamente poneva dei grossi problemi di accettazione da parte dell'ente come potete immaginare e soprattutto nel caso in cui il software per la condivisione del file nelle reti di peer-to-peer sia una vera e propria realtà commerciale e quindi nel momento in cui il software viene utilizzato da una società che in qualche modo ottiene dei guadagni attraverso questa forma di utilizzazione e quindi in questi casi abbiamo dovuto alzare le mani e dire no in effetti dovremmo considerarle commerciali il problema dell'esclusività del mandato appunto la CIA in qualche modo tentava di far rientrare quelle che erano le proprie prerogative di un mandato generale assoluto anche nel caso del mandato speciale per gli autori creative commons richiedendo quindi una gestione esclusiva e per tutto il mondo noi abbiamo fatto capire all'ente che la gestione esclusiva potrebbe sì essere presente nella direzione delle opere che l'autore decide di rilasciare per usi commerciali ossia dalle quali vuole comunque ottenere un guadagno economico e non per tutte le altre appartenenti sempre al proprio repertorio che invece vengono condivise con licenze differenti dalla non commercial è passato questo principio per cui potremo in effetti pensare che una procedura di gestione di opera per opera sia comunque passata per cui l'autore mantiene una certa discrezionalità nel decidere come utilizzare le loro opere le proprie opere e quindi quale tipologia di licenza adottare e quindi dovrà sarà in qualche modo ottenuto a depositare all'ente soltanto quelle opere per le quali ha deciso di adottare una licenza non commerciale il 14 luglio del 2009 ci siamo incontrati qui a Torino abbiamo fatto l'ultima riunione del gruppo di lavoro dove vi è stato lo scambio di una bozza di mandato condivisa ossia abbiamo proposto noi di Sicile modifiche ultime che ritenevamo opportune alla bozza di mandato presentataci dalla CIA in quell'occasione da parte della CIA è stata fatta una proposta in merito alla quale si sarebbe potuto definire un elenco di opere da dichiarare all'atto del conferimento del mandato e da formalizzare con un bollettino di dichiarazione si sarebbe potuta attuare una procedura analoga a quella adottata per la licenza di G quindi una procedura esclusivamente gestita online si era ipotizzata anche un calendario per la definizione la presentazione del modello di mandato delle opere musicali in licenza CC che sarebbe dovuto presentare nel successivo superata la pausa estiva nel successivo mese di settembre per ottenere il paventato parere favorevole della commissione della sezione musica per poi passare alla richiesta appunto all'approvazione della delibera da parte del consiglio di amministrazione e tutto ciò non è successo è passato più di un anno oggi siamo a novembre del 2010 nonostante i nostri continui richieste insomma di chiarimento non abbiamo avuto alcun tipo di risposta infatti c'è stato il vuoto praticamente in tutto questo periodo non abbiamo avuto nessun'altra risposta che quella di dover temporeggiare ovviamente tutto ciò ha fatto cadere un po' l'entusiasmo che avevamo messo nel progetto perché ci siamo resi conto che nonostante la preparazione nonostante l'apertura di mentalità e nonostante la voglia di collaborare insieme manifestata da tutti i rappresentanti di CC che hanno partecipato al gruppo di lavoro credo che questo lungo lasso di tempio abbia lasciato sicuramente il passo alla consapevolezza che il consiglio di amministrazione forse non è così propenso ad accogliere gli autori che rilasciano le proprie opere sotto licenza CC anche se relegandoli in un mandato a parte però nel frattempo noi non ci siamo fermati perché comunque abbiamo le pressioni degli artisti che anzi alcuni di loro hanno stati anche sentiti in audizioni durante i lavori del gruppo che necessariamente hanno bisogno di continuare ad andare avanti e non possono aspettare i tempi biblici della CIA per cui passo la parola al mio collega al dottore Armando Pandoli che vi illustrerà quale sono state da un punto di vista di fatto le conseguenze che questo vuoto comunque ha colmato grazie in effetti adesso questa situazione di stallo oppone dei problemi per gli autori che sono in realtà i diretti interessati e ci si è posto il problema di come conciliare la possibilità per il pubblico di usufruire di contenuti liberi e quantomeno in rete con l'opportunità per l'autore di poter utilizzare gli strumenti che si ha e offre per la raccolta dei compensi per il diritto dell'autore si è cercato quindi avete già sentito l'avvocato De Angelis che ha parlato in particolare della limitazione del mandato sull'online che è una possibilità che si ha e dà all'interno del proprio mandato quindi ragionando con un gruppo un autore in particolare non ci sono basi scientifiche che sono soltanto pensieri per cercare di organizzare meglio il tutto siamo arrivati a degli assunti dove si vede che raramente le utilizzazioni offline sono non commerciali in realtà quando c'è una distribuzione di un cd fisico quando ci deve essere che ne so un'esecuzione in pubblico con un'organizzazione del concerto comunque uno scambio monetario c'è sempre quindi raramente si parla di non commerciale mentre con le utilizzazioni online spesso sono non commerciali proprio perché la distribuzione su internet permette di avere dei costi minimi o anche non affrontare assolutamente alcuni costi quindi si è dovuto adottare una soluzione pratica intermedia in attesa che SIAE accetti di rappresentare gli autori che distribuiscono in Europa con Creative Commons quindi l'esclusione del mandato SIAE delle utilizzazioni online e il contemporaneo rilascio di una licenza open content permette di conciliare la possibilità per il pubblico di si offrire dei contenuti liberi e per l'autore di poter utilizzare gli strumenti di SIAE per fare la raccolta delle utilizzazioni offline ma questo naturalmente crea altre difficoltà innanzitutto l'impossibilità di utilizzare una licenza Creative Commons e questo è già un grosso problema perché dal punto di vista pratico nella mente degli autori che cercano di utilizzare il marketing virale che offre la rete le licenze Creative Commons sono una condizione senza la quale non si può fare naturalmente per i giuristi o per chi è all'interno dell'ambiente questo potrebbe non rappresentare un problema per gli autori sì è stato quindi necessario naturalmente il motivo l'ha spiegato l'avvocato De Angelis le licenze Creative Commons non si occupano limitamente a un'utilizzazione online ma a un'utilizzazione completa sia online che offline è stato necessario modificare una licenza CC seguendo naturalmente le indicazioni che sono state date direttamente da Creative Commons il testo della licenza è licenziata con un attribution e naturalmente ci sono delle questioni da rispettare tipo l'utilizzo del simbolo e soprattutto non si può utilizzare il nome Creative Commons e anche figlio dello studio che c'è stato si è avuta la necessità di specificare la differenza tra commerciale o non commerciale quindi sono state aggiunte alcune parti dove nell'utilizzazione online si dice che le libertà attere riconosciute sono limitate all'utilizzazione dell'opera sulle reti telematiche per rispecchiare quello che l'articolo 11 del regolamento del generale offre all'autore nella limitazione del mandato per le utilizzazioni offline è necessario ottenere l'utilizzazione della competente società gestione collettiva in Italia la CIA un'ulteriore modifica è stata quella nella parte dell'utilizzazione commerciale online dove viene inserito che per le utilizzazioni commerciali online e per le altre utilizzazioni non previste dalla presente licenza o da CIA ad esempio la sincronizzazione per opere derivate è necessario ottenere l'autorizzazione dal detentore del diritto per utilizzazioni commerciali online si intendono tutte quelle utilizzazioni che comportano un ricavo per l'utilizzatore e un profitto pubblicitario anche questo è stato spiegato dall'avvocato De Angelis e qui in certa maniera si cerca un attimo di salvaguardare quelle comunità su internet quegli aggregatori che dalla pubblicità ricavano soltanto un minimo magari per pagarsi le spese del server è utile una nuova licenza? assolutamente no non è utile infatti la finalità di questo progetto è un altro il gruppo che adesso sta facendo questo percorso nel momento in cui non era associato SIAE il gruppo musicale nel momento in cui non era associato SIAE ha potuto legittimamente licenziare alcune delle sue opere anzi tutte le loro opere con una licenza non commerciale non opere derivate e questo è un fatto ci sono in circolazione delle opere con questa licenza adesso con la nuova associazione SIAE pur essendoci un'animazione del mandato online non possono esserci le nuove opere non possono essere licenziate con una creative commons però comunque in circolazione ci sono già delle opere licenziate con una licenza che permette di fare ciò che la licenza dice e quindi l'opportunità è proprio di verificare in pratica le azioni di SIAE di fronte a un'utilizzazione di un brano precedentemente licenziato con creative commons e in particolare studiare le problematiche connesse alla presenza di un editore alla presenza di coautori associati e al compenso per esempio per l'utilizzo delle musiche inserite in una colonna sonora di un film dove magari il diritto all'autorizzazione per la sincronizzazione è stata data successivamente e legittimamente in quanto è comunque un'azione che viene riservata all'autore o al detentore del diritto in altre parole adesso a parte questa necessaria modifica della licenza la mia impressione che SIAE da una parte non voglia rispondere perché naturalmente subisce delle pressioni esterne però d'altra parte con il proprio silenzio fa uscire dalla finestra un po' la ketichella il progetto creative commons allora il ragionamento che abbiamo fatto è se la SIAE non può non si fa pressare da situazioni esterne lo dovrà fare comunque dall'interno cioè da parte dell'autore che associato SIAE pretende che una licenza venga un'opera un compenso venga raccolto per un'utilizzazione che non è stata autorizzata a seconda da una licenza creative commons non commerciale non per le derivate nella pratica si deve costringere SIAE ad obbligare si deve obbligare SIAE a interessarsi di quello che fino adesso sta cercando di tenere fuori dal proprio ambito questo è tutto prima di passare va bene allora seguiamo la scaletta proposta giustamente dal professor Ricolli e ringraziamo sia l'avvocato De Angelis che il dottor Pandoli per averci dato un quadro che mi sembra molto chiaro sia diciamo dell'evoluzione anzi a partire dal problema teorico che ci siamo trovati ad affrontare il regolamento di SIAE le caratteristiche delle licenze creative commons l'incompatibilità dei due approcci la necessità che o SIAE o creative commons facessero qualche passo per avvicinarsi i tentativi di farli le difficoltà che hanno portato apparentemente ad uno stallo interno a SIAE dell'approvazione del percorso di approvazione di una soluzione di compromesso e poi mi insomma mi sembra giusto sottolineare questa l'importanza di questa strategia che è stata inventata che di fatto è passata per la creazione di una licenza ad hoc che mi prego di sottolinearlo non è una licenza creative commons se non è in alcun modo una licenza appoggiata da creative commons internazionale o da creative commons italia ma non è nemmeno una licenza che voglia avere questo appoggio è una soluzione strategica giuridica mi pare brillante per mettere SIAE in condizione di riavere tra i propri membri dei soggetti che comunque vogliono utilizzare delle licenze libere laddove il regolamento di SIAE permette di farlo e indirettamente come è stato detto facendo rientrare dalla porta di SIAE questi autori si mette anche SIAE di fronte al problema che questi autori mentre non erano membri legittimamente hanno utilizzato delle licenze creative commons e quindi SIAE si ritrova con autori con un repertorio che in parte è licenziato con creative commons e quindi è una situazione che diciamo rende ancora più urgente se non lo fosse già stato abbastanza il fatto che SIAE prenda una posizione sul rapporto con creative commons quindi mettere la testa sotto la sabbia apparentemente non è un'opzione nel senso che dei membri stessi di SIAE chiederanno ragione del modo in cui SIAE stessa intende comportarsi in questi casi un po' di confine oggi ci sarebbe piaciuto avere il punto di vista di SIAE che però data la delicatezza del tema e i dati impegni contemporanei dei membri del tavolo di lavoro non ha potuto inviare nessuno allora il professor Marficolpi mi perdonerà se lo chiamo un po' l'avvocato del diavolo in questo scenario per carità il rappresentante dei legittimi interessi della gestione collettiva del punto di vista di SIAE in questo dibattito ecco sì grazie Federico io ho chiesto di fare un po' questa parte perché è giusto che ci sia una sorta di posizione di garanzia che tiene conto del punto di vista della SIAE anche perché non hanno potuto essere vorrei precisare che questa assenza non è un'assenza di tipo diplomatico hanno detto che non vogliono esserci non hanno trovato la persona perché in questo momento a Vieste piuttosto che a Vietri non so dove a Faenza c'è un altro incontro in cui sono impegnati da data anteriore alla nostra noi siamo sempre un po' in ritardo perché credo che abbiamo stabilito qual era la data del nostro incontro a luglio non certamente al gennaio e per cui ci hanno detto subito che sarebbe stato molto difficile che mandassero qualche d'uno d'altro canto in termini più teorici e meno occasionali intanto vorrei ricordare che in questo momento Deborah con esposizione di cui la ringrazio personalmente perché col passare del tempo si affina sempre di più anche nelle sue doti non solo di giurista di avvocato ma anche di conferenziere e di relatore e voglio anche pensare che le occasioni che le abbiamo offerto come Nexa di affinarla l'abbiano aiutata ad avere un grande spolvero sotto questo profilo ma dicevo che mentre ci sono questi gruppi di lavoro Creative Commons si ha e ci sono anche dei discorsi che vanno un po' sopra la nostra testa che stanno facendo in questo momento Giorgio Assuma come presidente della CIA e gioito come che ruolo ha in Creative Commons CEO Chief Executive Officer quindi ci sono delle cose che abbiamo instigato noi perché questo dialogo è partito perché noi dalla base Creative Commons Italia e dall'ufficio multimedia della CIA e quindi Maglier Colani avevamo già esplorato il terreno devo ricordare i primi incontri che ha avuto Massimo Travostino su questi temi nel lontano credo 2005 per cui abbiamo un po' preparato il terreno perché il problema c'è d'altro canto in termini più teorici io simpatizzo con la CIA che ha avuto un primo grandissimo stress che è quello del passaggio dall'analogico al digitale ma simpatizzo una seconda volta perché proprio la sua constituency la sua base sociale è cambiata cioè la CIA si è sempre trovata dei tempi in cui è stata fondata col contributo di Alessandro Manzoni piuttosto che Victor Hugo in Francia o gli altri creativi che l'hanno creata negli Stati Uniti con l'apporto di creatori professionisti gente che viveva della sua penna che poi fossero spartiti musicali piuttosto che libri ma erano artisti professionisti la rete ha fatto nascere un'altra tipologia di creativi di artisti di creatori che poi sono il popolo del web 2.0 cioè sono delle persone che creano della musica creano dei testi creano dei video creano delle opere digitalmente con dei mezzi e con un dispendio minimo e lo fanno molto spesso il più delle volte la stragrande maggioranza delle volte come secondo lavoro avendo un'altra attività per cui oltre a fare l'insegnante piuttosto che un qualche tipo di lavoro più o meno stabile fanno anche creatori usando la rete per divulgare le loro opere il fatto è che questo nuovo popolo di creatori il popolo del user generated content sono molto più numerose dei creativi professionisti ma fanno delle opere che tendono a non sfruttare commercialmente perché questo non è il loro business normale e si trova in grandissima difficoltà a inquadrare questa sua nuova constituency ha lo shock del digitale e anche lo shock di avere i peppino di capri piuttosto che gli eredi di Mimmo Modugno piuttosto che Celentano da un lato e poi il creatore del user generated content e poi delle figure che sono a cavallo tra gli uni e gli altri quindi mi sembra abbastanza logico che ci sia un gruppo della CIA di tecnici molto aperti e aggiornati che dicono parliamone perché noi dobbiamo pure rappresentare questa gente e il mandato è un bel modo per avere la vecchia guardia dei soci e la nuova generazione di queste persone che non sono dei soci ideali ma sono dei mandanti e questo c'è qualcuno che butta il cuore oltre l'ostacolo e parla con noi però poi la struttura della governance dà molto più peso ai Peppino di Capri è vivo è morto non lo so a questi a Celentano e quindi si capisce che c'è stato il gruppetto dei nostri amici persone che stimiamo che ha lavorato con noi molto bene devo dire e poi è chiaro che si sono incagliati da qualche parte e mi sento anche un po' in imbarazzo a dire che abbiano loro bloccato questo lavoro perché in realtà hanno una difficoltà di transizione di adattamento per cui anche noi non sappiamo se prenderli per gli stracci dicendo sentite adesso è più di un anno che stiamo aspettando o sì o no oppure dire capiamo avete i vostri difficoltà i vostri tempi insomma ci troviamo qui e quindi esprimo un po' di simpatia rispetto a questo grande gigante un po' bistrattato che la si ha e che però a mio modo di vedere i suoi sforzi li sta facendo ecco perché non si dica che a Torino non abbiamo tenuto conto del punto di vista dei nostri interlocutori grazie mille grazie mille al professor Marco Ricolfi io penso che a questo punto i vari punti di vista siano abbastanza chiari speriamo presto di avere direttamente da qualche portavoce di SIA il punto di vista di SIA e speriamo anche che questo processo che ormai appunto è più di un anno che è rimasto incagliato possa proseguire perché ufficialmente il punto di vista di SIA non è questo processo si è bloccato è questo processo ha una complessità tale per cui non possiamo permetterci di metterci fretta oltre un certo limite se vogliamo che vada avanti con delle buone possibilità di successo e quindi insomma incrociamo le dita e però penso che sia anche il dovere di Creative Commons Italia chiedere a SIA di darci almeno un'idea di quali possono essere dei ragionevoli tempi insomma per poter finalmente assistere a questo non ho pensato un ultimatum di due mesi ma però insomma forse si può ancora essere più cortesi e dire ma voi che tempi pensate di avere se ci dicono vent'anni diciamo non va bene io penso che se SIA ci dicessero in tre mesi c'è la risposta saremmo tutti contenti però se non ci dicessero un giorno noi abbiamo il dovere di dire due mesi qui abbiamo comunque il nostro progetto direttore cosa dice il mio condirettore esatto quindi dovremmo chiederlo noi purtroppo e lo faremo subito dopo questa quest'incontro che però è anche un'occasione per sentire il punto di vista vostro le domande curiosità e quindi ne abbiamo una da Simone Aliprandi e c'era una domanda si applica anche a questo discorso lo facciamo ok perché abbiamo un po' di tempo di discussione alla fine magari quelle ricapitolative in generale su questa parte le facciamo dopo se non vi spiace ma teniamo sicuramente uno slot io velocemente su questa cosa voglio sapere se al di là dell'attesa dei SIA hanno i loro tempi come creato in commo se non è il caso comunque di fare un comunicato ufficiale in cui si spiega qual è la situazione perché ormai è passato veramente un anno e mezzo e lo vedo io perché quando vado a fare le conferenze i ragazzi mi dicono ma allora abbiamo saputo che c'è e io non so mai cosa rispondere se ci fosse sul sito di Creative Commons un annuncio ufficiale vabbè ragazzi prendete quello che c'è scritto lì ok posso raccontare quello che è stato detto oggi ma secondo me sostanzialmente le slide di Deborah magari con una maggiore spiegazione un pregresso storico firmato come Creative Commons potrebbe essere utile non per dare un ultimatum però per far vedere alla gente che la situazione è questa qua e non è colpo di Creative Commons se le cose non stanno andando avanti in modo tale che la sai magari sentendo anche il vociare nella rete probabilmente si danno svegliata secondo me è giusto quello che dice Simone perché noi stiamo facendo anche una figuraccia nel senso che ci siamo ci siamo fatti parte di gente per interpretare le esigenze nuove e poi siamo diventati un po' complici di questo insabbiamento per cui dobbiamo anche noi tirarci fuori e o si dà un ultimatum o quantomeno si dice qual è lo stato dell'arte corrente in modo che le pressioni non vengano soltanto da noi ma vengano anche dal resto della rete perché la SIAE si muova una curiosità ho sentito fin qui parlare di gruppi musicali di SIAE e voglio sapere a che punto è lo stato dell'arte sul tema delle immagini invece quindi fotografia cioè se ci sono a parte situazioni già online come Flickr anche delle agenzie fotografiche come dire analogiche cioè che curano le immagini la vendita di queste immagini per fotografi o per gruppi di fotografi sia per pubblicazioni giornalistiche che per invece contenuti più artistici che hanno aperto la discussione quantomeno sul no eh sconsolato anche perché francamente io non ho mai capito questo può sembrare ancora una volta provocatorio ma perché sul adesso che siamo di fronte ad una nuova era della fotografia fotografia numerica o digitale dove potrebbe valere forse il principio della musica cioè la creazione è sul demo oggi non c'è più neanche il rullino il negativo dell'idea originale allora perché non posso comprare che una fotografia di non so e a prezzi smodati quanto quelli di un'opera d'arte ovviamente e invece che comprarne 15.000 copie autorizzate dall'autore a prezzi più modesti come più modestamente posso raggiungere l'opera di un qualsiasi cantautore italiano attraverso un cd si è avuto praticamente da parte dell'ente una proposta di enucleare intanto il progetto esclusivamente per le opere musicali perché comunque da un punto di vista di diffusione sul web sono quelle che hanno una maggiore utilizzazione non nascondo però che ultimamente soprattutto come esperienza professionale sto avendo tantissimi casi di utilizzi impropri di fotografie che vengono prese dal web magari pubblicate su freak con licenza creative commons o comunque con altre tipologie di diritto comunque d'autore tradizionale non vengono rispettati i termini delle licenze so però che proprio qui a Torino ed è l'unico caso per le opere dell'ingegno quello delle fotografie per cui è stato già da tempo avviato una procedura per la risoluzione alternativa delle controverse dalla IACCI e questo credo che sia importante però a livello di agenzie che fungono da mediatori per l'acquisto di fotografie non ne ho assunvenzione avete parlato un po' di cose diverse secondo me perché secondo me Olga Piscitelli voleva dire ma non è che si stia cambiando anche non posso cambiare il modello di business si capisce che il quadro è unico invece la fotografia è più vicina alla musica perché ce ne può essere un numero infinito di copie perfette ed equivalenti allora forse si potrebbe pensare di aprire lo sfruttamento invece che avere le dieci copie autorizzate un numero infinito e con degli intermediari che in qualche modo aiutano a distribuire forse era questo che diceva ecco e poi sì allora forse purtroppo ci manca in questo momento anche l'economista perché qui parliamo di modelli di business io potrei soltanto ricordare che la fotografia ha ancora aura cioè l'opera d'arte unica ha aura e il fatto di avere di fronte a sé quell'opera che è l'esemplare unico ci richiama dei valori aggiunti tra cui la presenza della persona che l'ha creata la musica no perché per una serie di motivi a partire dall'incisione dell'inizio del novecento poi la radio e la televisione l'hanno allontanata dal momento della performance per cui il fatto di sentirla sia una buona esecuzione anche se non ha aura altrettanto buona la fotografia è complicatissima io come studiore del diritto d'autore non riesco mai a raccapezzarmi perché è un po' a metà tra l'aura estrema della scultura della pittura e la bontà accettata della musica di livello anche se lontana dalla performance e quindi effettivamente ci andrebbe Gianfranco Mossetto aveva studiato queste cose ma ci vanno degli economisti che capiscono come sono fatti questi mercati che sono nei mercati ibridi è molto difficile la sua domanda perché la fotografia è molto difficile partecipando di due mondi diversi non siamo in grado di rispondere in altre parole posso commentare non come economista capace di rispondere perché no mi spiace di deludervi ma tuttavia c'è una differenza molto forte tra gli sforzi che stiamo facendo con SIAE nel mercato della musica e tutti gli altri mercati cioè c'è un monopolio dell'intermediazione per legge nel caso della musica e di SIAE negli altri campi stanno nascendo in alcuni campi prima e in altri campi dopo dei nuovi intermediari che si fanno anche carico di ruoli di questo genere nel campo della fotografia alcune agenzie che gestiscono che si fanno da intermediari per le immagini già hanno accordi con Flickr stesso per esempio non mi risulta ma forse è un'ignoranza mia che usino licenze creative commons ma il punto è che in questi campi nulla osta che qualcuno si inventi un modello di business nuovo in cui c'è creative commons l'intermediazione è in ogni campo del diritto d'autore in ogni campo del diritto d'autore ci sono delle agenzie perché di fatto ci sono ma l'articolo 180 dice qualsiasi forma di intermediazione anche attraverso cessione per cui io credo che tu abbia ragione perché descrivi la realtà sono di fatto fuori legge le agenzie il mercato delle fotografie anche in Italia di fatto è intermediato sono di fatto fuori legge ok come non è sostenibile la CIAE sono troppi buoni politici per non andare a presentare denuncia a qualche procura della Repubblica perché questa esclusiva non ha più le ragioni sostanziali che aveva mezzo secolo fa o tanti anni fa per cui non vanno a fare delle polemiche questo discorso è giusto Deborah no? Se non ci sono altre domande forse possiamo approfittare di questo momento per la domanda che è rimasta in sospesa e poi fare una breve pausa caffè per ritornare il suo nome Luca Pella Belli Belli scusi era una velocissima precisazione abbiamo parlato di licenze 3.0 di licenze international e italiane volevo sapere se le licenze international e italiane sono delle sottocategorie delle licenze 3.0 sono dei tipi di licenze 3.0 o sono le uniche licenze 3.0 forse è più semplice dire che ci sono le licenze 3.0 di cui quella international c'è già ed è unported e noi stiamo lavorando all'adattamento della versione italiana quindi il genus per intenderci è la licenze 3.0 che è fatto di due species che sono quella che oggi chiamiamo unported ma che in realtà si chiamerà international e quella adattata al diritto italiano di cui aspettiamo la luce verde che non abbiamo soltanto perché questo è il weekend di Thanksgiving per cui gli americani ci hanno detto che possono solo per Thanksgiving poi naturalmente c'è attribution non derivative share like non commercial eccetera che sono delle sottospecie genus due due species e poi un certo numero di sub species approfitto anche io velocemente uno spunto che ho parlato prima con Juan Carlos legato alla domanda sul tavolo sulla applicazione della licenza su un oggetto di design ho visto su wired di qualche mese fa la notizia di Arduino questo hardware rilasciato sotto licenza di graphic commons benché appunto dal punto di vista mediatico sia una cosa interessante una provocazione anche però dal punto di vista poi giuridico più che altro vorrei sentire anche il professor Ricolfi cosa ne pensa di una licenza di graphic commons applicata ad un'architettura hardware Boh Si direi che possiamo fare ci pensiamo e proviamo a rispondere durante la pausa a caffè di dieci minuti a meno che non ci siano ultimissimi commenti benissimo allora ci ritroviamo tutti qui alle 16.50 per l'ultima e lo so vabbè allora il mio orologio fa le 16.40 ci ritroviamo tutti qui tra dieci minuti per concludere poi la sessione graphic commons Italia 2010 grazie a tutti